Gli nemici ci vengono addosso. Il peggior porno mai visto! Là! Sopravvissuti. Sono fuggiti. Di recente. Hanno lasciato degli spuntini. Fuggiamo anche noi. Potremmo provare da dietro. Il miglior porno mai visto. Cazzo! Questa porta non reggerà. Dobbiamo barricarla. Tu stai qui, bello! Vedi questo? Ho passato un sacco di tempo sognando come poterlo usare per ucciderti. Tu sei mio ora. E sei proprio in un mare di... Merda! Ciao ragazzi! Stavamo solo parlando un po'. Detto shh. Sentito? Niente mostri. Qualcosa li ha spaventati? Aiuto! Ehi, Bruce! Usi ancora le ombre per spaventare a morte noi criminali? Tranquilli, Batman non è un assassino! Ti senti bene? Bene! Tutto tu a flash! Beh, cazzo. Ognuna per sé! Dannazione! Ci affumica! Il drone no! Il rampino no! Bata ha usato il suo disturbatore! Dove siete? La vostra priorità è riportare Flash nella sala della giustizia. Sicuramente non la mia. Forza! Portiamo il culo fuori da qui! Lasciami! Prendi Ali! Non lavoriamo insieme! Anzi, se vogliamo... Io sono addirittura un clandestino! Non lavoriamo insieme! Non? Prendi Ali! Movimento vicino. Pronti. Task Force X. Cosa sta succedendo? Squalo! Se ti metti a portata di pipistrello, non posso farci niente! Jetpack disattiv... Wow, ha proprio sfasciato da Hatshot! Ironia della nante? Noi pensiamo proprio di sì. L'uscita è sigillata. Proviamo con le uscite di emergenza. Batman mi ha indebolito! È uno stregone! Ehi, sentito! Era lui, vero? Pensavo che Squalo sarebbe durato di più. Caro! Cosa penserebbe, oh... Albert! Di questo tuo comportamento! Devo prendermi cura del numero uno! Sentite! Voi pensate a Flash! Io vi tiro fuori dai casini! I miei ragazzi andati uno dopo l'altro. Mi sembra molto familiare. Flash! Flash! Renderi Flash! Flash! Appman! Appman! Facile! Facile! Non credo che farò una donazione al museo Lanterna, ho preso Flash I tuoi criminali mi hanno portato da lui No, una minaccia no Però lasciamo che i cadaveri incutano timore tra i rivoltosi No, una minaccia no Vivo? Sì, Brainiac Pronti per il viaggio Ehi capo, notiziacce, c'è il Batman malvagio Ma ha ucciso un po' di gente e rapito Flash Che immagino sia l'altra brutta notizia Inoltre Batman ci ha messo in trappola Vi rivolgo nella sala della giustizia Aspettate i rinforzi all'altra uscita Passo e chiudo